Assistenza domiciliare straordinaria ad anziani non autosufficienti, disabili adulti e soggetti in difficoltà. È operativo il servizio deliberato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario Agrigento 7, comprendente i comuni di Sciacca, Capofila, Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Caltabellotta e Montevago. L'obiettivo è quello di sostenere i cittadini la cui condizione di fragilità e isolamento sociale si è aggravata a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sul sito del Comune di Sciacca è stato pubblicato l'avviso pubblico con allegato il modello di domanda per richiedere l'accesso al servizio che è indirizzato ad anziani non autosufficienti e disabili che vivono soli o con familiari non in grado di sostenerli adeguatamente e a soggetti adulti che presentano situazioni di grave marginalità e necessitano di supporto nella gestione dell'igiene personale e dell'ambiente di vita. L'accesso al servizio è possibile mediante richiesta dell'interessato da inoltrare al Comune di Residenza. È prevista anche la segnalazione dello stato di bisogno del soggetto destinatario da parte delle forze dell'ordine, delle associazioni identi no profit, della protezione civile, del medico di base, di un familiare o di un vicino di casa. Saranno i fruitori del servizio a scegliere da chi farsi aiutare. Ai beneficiari infatti verrà assegnato un voucher di servizio da utilizzare per acquistare le prestazioni domiciliari presso uno degli enti no profit scelto liberamente inserito nel catalogo del distretto sociosanitario. Sono previste due tipologie di prestazioni, aiuto per la cura della casa e aiuto per la cura e igiene della persona. Grazie a tutti.